Confindustria Pescara in collaborazione con Confindustria Chieti, SLET, TMF Group ha organizzato per questa mattina nella sede associativa di Via Rayale un seminario verifiche fiscali e diritti doveri del contribuente e dell'amministrazione finanziaria. In questo momento particolarmente critico per le casse dello Stato le verifiche fiscali stanno aumentando sia nel numero che negli importi accertati e quindi è un tema di grandissima intualità. Assolutamente sì, noi abbiamo voluto svolgere questo seminario in piena sinergia con le attività di verifiche fiscali dell'autorità finanziaria proprio perché questo è quello che è il valore e l'identità di Confindustria merito identità valoriale che dobbiamo trasmettere nel comportamento verso l'autorità finanziaria come contribuenti. Il peso fiscale può portare o magari suggerire l'evasione ma non è questo il comportamento da adottare? Dobbiamo evitare che ci siano comportamenti generalisti in Italia diciamo l'evasione supera il 20% del PIL all'interno dell'Unione Europea è un problema serio, non si può dimensionare solo con l'aspetto della pressione fiscale. Quanto è importante l'approccio collaborativo dell'imprenditore? Molto importante, è importante anche in termini di compartecipazione alle attività di verifiche e di controllo come sta proprio avvenendo questa mattina nella nostra sala gli esperti ci dicono quanto sia importante un'attività di sinergia di piena sinergia con le autorità di controllo.